La Notte dei Ricercatori fa tappa a Procida, o meglio ha fatto tappa a Procida in queste settimane e ha visto coinvolti i ragazzi dell'Istituto Caracciolo in particolar modo per il progetto della lotta all'Azienza della Tigre. Sì, la Notte Europea dei Ricercatori è nata nel 2005 per volontà della Comunità Europea e come finalità è quella di avvicinare la ricerca scientifica alla popolazione affinché la ricerca scientifica non viene vista soltanto come un qualcosa di elite fatto da pochi scienziati, poche persone chiusi nei propri laboratori che lavorano da sola. Così facendo naturalmente si vuole anche incrementare quel processo di Citizen Science ovvero l'aiuto dei cittadini affinché possano raccogliere dei dati che serviranno poi in seguito ai ricercatori per le proprie ricerche, per i propri progetti di ricerca. A Procida questa è la seconda volta che appare il coinvolgimento della popolazione riguardo sempre lo stesso obiettivo e lo stesso progetto che è quello di debellare la zanzara tigre sull'isola. La zanzara tigre è una specie aliena ma è arrivata qui tramite l'attività umana di trasporto e di commercio già nel fine degli anni del 1990, in quel decennio lì e è una specie che ha soppiantato la nostra vecchia Culex pipiens la zanzara che ci dava fastidio soltanto la sera al crepuscolo con un'oretta di attività e poi spariva poi c'era qualche altra zanzara di notte, non la Culex pipiens che ci ha fastidio invece questa zanzara è molto più aggressiva ha uno sviluppo larvale molto più breve della nostra vecchia zanzara e le femmine pungono più volte la stessa persona per il proprio pasto di sangue e inoltre ha attività anche diurna quindi è una zanzara molto molto fastidiosa dando fastidio anche non soltanto personalmente all'umanità ma anche al commercio perché venire qui su un'isola dove c'è un feedback negativo per la presenza delle zanzare fa diminuire quello che può essere il commercio e il turismo nei confronti dell'isola.